bene eccoci qua buonasera sono paolo di paolo devo dirlo per la per il pubblico a casa come si dice in questi in queste circostanze questa è uno spazio che è molto affascinante per uno che scrive cioè è uno spazio che ha a che fare pure con le con le ossessioni che sono domande spesso sono interrogativi che continuano ad abitarti nel tempo e anche se hai una certa dimestichezza ormai col gesto dello scrivere che qua in qualche modo rappresentiamo tutti poi continuano ad assediarti hanno a che fare spesso pure con degli scrittori o delle scrittrici che ti visitano come se fossero dei fantasmi qualche volta letteralmente dei fantasmi vivi perché si tratta di scrittori viventi come nel caso di uno scrittore da cui partirò altre volte di scrittori che appunto non ci sono più come nel caso di martin emis questo scrittore britannico intorno al quale poi faremo girare alcuni ragionamenti ma il primo ragionamento lo facciamo intorno a uno scrittore vivente perché proprio oggi la nave di teseo ha ripubblicato questo libro di uno scrittore noto alle cronache recenti per avere vinto l'ultimo premio nobel di letteratura che si chiama ion fosse è uno scrittore norvegese come spesso succede il primo giovedì d'ottobre che il giorno deputato all'assegnazione del nobel di letteratura di solito un po inizialmente un toto nobel no che fa salire le quotazioni di questo a svantaggio di quello è un gioco se volete collettivo che lascia il tempo che trova e che spesso crea anche una sorta di frustrazione preliminare anche a posteriori legata a scrittori che vorremmo premiati scrittrici che vorremmo premiati uno dei protagonisti in assoluto nell'ultimo abbondante decennio è stato più che abbondante decennio è stato philip roth che tanti aspettavano fosse premiato col nobel questo nobel non arrivava e si creava un meccanismo quasi un po ridicolo no di protesta contro l'accademia di stoccolma che non è portatrice di una un valore indiscutibile vorrei anche far ragionare su questo è certo però che è il premio più importante per uno che viva in questo secolo non solo a queste latitudini e che scriva qualcosa che vogliamo chiamare per comodità e per semplicità letteratura gli scrittori non premiati dal nobel sono una valanga ovviamente tutti molto meritevoli se pensate che non ha preso il nobel proust non l'ha preso joyce non l'ha preso il nostro italo calvino insomma voglio dire potrebbero essere tantissimi gli scrittori che potevano aspirare o potrebbero aspirare alla massima celebrazione però partire da un dato di fatto cioè poi chi lo vince veramente il nobel di che cosa è rappresentativo quel premio nel caso di ion fosse devo dire che nonostante un poco di così perplessità che circolava nei giornali italiani era in realtà uno dei nomi che già aleggiavano diciamo presso nei pressi dell'accademia di stoccolma c'è una contiguità geografica che deve aver facilitato in qualche modo ma certo era per chi è stato attento al teatro soprattutto di questi decenni al teatro contemporaneo un nome importantissimo in campo drammaturgico magari meno conosciuto come narratore e d'altra parte questo libro melancolia o melancolia che la nave di teseo ripubblica proprio stamattina oggi da oggi in circolazione era un libro che aveva invece avuto una sua circolazione italiana nella stessa traduzione per fandango quando mi ero imbattuto in questo libro ero rimasto abbastanza impressionato dalla prosa da una compattezza della prosa che ha qualcosa di non solo musicale ma di vorticoso come se fosse una sorta di flusso dal quale non si riesce a sblindarsi a staccarsi comincia la prima pagina questo flusso procede ininterrottamente non dandoti realmente respiro ci sono come solo dei singhiozzi o delle apnee per cui a un certo punto va a capo staccando i dialoghi ma poi il flusso riprende questo flusso da una sorta di estensione quasi incarnata tipograficamente del flusso dei pensieri di quel flusso che a scuola chiamavamo di coscienza in realtà è semplicemente proprio questa sorta di fiume fatto di pensieri contro pensieri visioni e controvisioni il narratore io non fosse fatto così può essere così fluviale al punto che una delle sue opere più recenti si chiama settologia in italia siamo ancora ad alcune porzioni ed è una specie di gigantesco organismo che potrebbe essere riconducibile a un'intera unica frase questo esperimento l'aveva fatto anche matthias senar uno scrittore francese oggi credo poco più che cinquantenne scrivendo un libro zona fatto di un'unica frase che comincia all'inizio del libro e finisce alla fine del libro qui addirittura l'unica frase ingloba addirittura sette volumi sono esperimenti appunto avanguardistici sono esperimenti di provocazione sono un tentativo di essere originali a tutti i costi io non lo so ma è una delle domande che mi farei con voi stasera cioè che cosa ci aspettiamo da un romanzo che vogliamo definire con un lemma e anzi un aggettivo in questo caso discutibile scivoloso opaco comunque che è l'aggettivo letterario detto in altri termini che cos'è un romanzo letterario potrebbe essere come posso dire una tautologia un romanzo è letterario perché è un genere letterario ma quando diciamo letterario come scrivendolo in corsivo che differenza vogliamo marcare se vogliamo marcarla da un altro tipo di romanzo esiste uno statuto una grana specifica un timbro del romanzo letterario sarebbe interessante discuterne anche rispetto alla percezione che hanno dei giovani lettori e delle giovani lettrici come voi se cioè di fronte a un certo tipo di proposta narrativa colgono una specifica letterarietà a svantaggio magari di altre proposte narrative che sembrano meno letterarie è una domanda che tra l'altro ci siamo posti con alcuni di voi e magari con qualche assente poco fa in un altro contesto sempre però in questa scuola rispetto alla definizione di letteratura che naturalmente mi sentirei di evitare di assecondare perché definire la letteratura richiederebbe forse una presunzione un po eccessiva anche in una scuola come la olden diciamo c'è un limite a all'eventuale diciamo voglia di essere definitori e sancire o stabilire diciamo così anche in modo un po apodittico e prescrittivo delle verità che riguardano lo scrivere e dunque sulla definizione di letteratura mi esimo mi mi faccio da parte ma sulla letterarietà di una certa proposta romanzesca invece discuteremo stasera e quindi voglio sottoporvi una mezza pagina in realtà è poco più che un pezzo di una lunga interminabile frase che c'è in questo libro di ion fosse proviamo a metterci in questa situazione scopriamo che questo ha vinto il premio nobel che questo signore norvegese ha vinto il premio nobel quindi andiamo in libreria ovviamente in copertina anzi c'è una scetta rossa che questa che ti dice premio nobel per la letteratura e tu apri sei arrivato a pagina 282 e leggi sera tardo autunno 1991 lui vidme cammina nella pioggia nel vento e nell'oscurità è uno scrittore sui 35 anni e adesso sta camminando sul marciapiede con la sua vecchia giacca addosso e sta pensando che deve essere difficile distinguerlo al buio sotto la pioggia mentre cammina con la sua giacca grigia sotto un ombrello nero vidme cammina lungo un marciapiede curvo in avanti contro pioggia e vento va con la faccia girata di lato da una parte via dalla strada dove gli passa davanti una lunga fila di automobili che pensa vidme non si distinguono mai l'una dall'altra vidme vede anche se ha la faccia girata dall'altra parte rispetto alla strada che la luce delle automobili luccica nella pioggia sull'asfalto vidme continua a camminare pensando che deve dire il suo nome portare avanti il suo compito lo deve portare a termine perché lui vidme un uomo di 30 anni ma con già con qualche capello grigio ritiene di avere scoperto qualcosa di importante che gli cambierà la vita ha capito che si è addentrato in qualcosa di importante attraverso la sua attività di scrittore qualcosa con cui deve fare i conti se vuole continuare con la sua vita e per questo vidme cammina nella pioggia e nel vento pensando che già molti anni di lavoro come scrittore gli hanno man mano insegnato qualcosa di importante qualcosa di cui pochi sono a conoscenza lui ha visto qualcosa che non così tanti hanno visto pensa vidme mentre cammina nella pioggia e nel vento infatti se uno si concentra abbastanza lavora con sufficiente profondità e concentrazione a capofitto in qualcosa se uno vuole se solo arriva dentro abbastanza se si immerge abbastanza arriva a vedere qualcosa che gli altri non hanno visto e quello che lui ha visto pensa vidme mentre cammina nella pioggia e nel vento è la cosa più importante che ha ricavato dai tanti anni in cui praticamente ogni santo giorno ha scritto vidme crede che il suo lavoro di scrittore lo abbia condotto nelle profondità più recondite di qualcosa che lui in momenti improvvisi stanti felici di lucidità è arrivato a considerare come un lampo divino ma sia il lampo sia il divino sono espressioni che a vidme non possono piacere se non avesse disprezzato così tanto queste espressioni avrebbe potuto dire che in singoli istanti illuminati ha avuto un'esperienza che non può negare un'esperienza che può anche sembrare ridicola e ridicola sia per vidme sia per la maggioranza della gente però in alcuni istanti di grazia se solo potesse fare uso di questa espressione vidme uno scrittore fallito quanto basta invecchiato presto si è reso conto di essere stato in prossimità di ciò che con un'espressione che non si sarebbe mai immaginato di utilizzare non può chiamare altro che il divino ecco questa è una pagina e come vedete anche da un punto di vista proprio della della pronuncia ad alta voce richiede un fiato lungo e dovresti spezzare non riesci perché lui ti trascina dentro questo vortice ti fa vedere vidme che cammina nella pioggia e te lo ripete tre o quattro volte che sta camminando nella pioggia e ti ripete anche che vidme pensa quello che sta pensando e vede quello che sta vedendo e poi in qualche misura stacca questa idea questa convinzione convinzione approssimativa ma attesa che scrivere sia cavare qualcosa da quel buio tirare fuori qualcosa di così profondo che forse altri che non hanno avuto lo stesso esercizio ossessivo di attenzione non hanno visto e che probabilmente ha a che fare se non con il divino quantomeno con uno stato di grazia con un istante di grazia che coincide con una imprevista lucidità tutto questo si poteva scrivere in molte meno righe con molta meno se volete vorticosità sintattica e anche con più trasparenza per certi versi ma quello che noi riconosciamo in una pagina del genere è un certo timbro un certo modo di scrivere che potrebbe respingere o con piacere che potrebbe convincerci o meno ma che in qualche modo si sente avere una sua specifica singolare diciamo così fisionomia è quello che in altri termini qua in fondo passiamo il tempo dentro la scuola una scuola come questa a circoscrivere questa parola chiave è lo stile cioè quello che si sente improvvisamente ad apertura di libro è uno stile è così è una cadenza è un modo se uno prende a casaccio altri libri di ion fosse anche pezzi di drammaturgia sente in qualche modo lo stesso tipo di timbro letterario lo stesso stile e lui stesso ad aver detto chiaramente che il lavoro che dovrebbe fare uno scrittore ossessivamente è cercare una voce in tante interviste che sono uscite dopo il premio nobel ha insistito proprio su questo punto cioè su come lui abbia fatto lo tutto lo sforzo di cui era capace per far somigliare le sue pagine a una voce che fosse la sua qualcuno può vederci dentro degli echi di thomas bernard e lui magari li respinge diceva insomma forse di beckett un po e insomma in qualche modo anche così per contrasto per approssimazione per contiguità per prossimità per parentela più o meno diretta uno scrittore elabora una voce che somiglia a questa potrei farvi decine di esempi di scrittori che uno li ami o meno è irrilevante che chiudendo gli occhi e ascoltandoli lo dico un po così insomma enfatizzando l'immagine ma chiudere gli occhi e ascoltarli equivale a sentirli somigliano solo a loro stessi credo abbiate avuto esperienza qualche volta non so di una pagina di saramago e una pagina di saramago la riconosci da mille perché è una pagina dove questo flusso di scrittura trascina tutto il narrato e il dialogato si confondono i tradizionali segni di interpunzione saltano se tu lo metti tra le mani di qua vi faccio magari scivolare dalle altezze di un fosse alla più gretta contemporaneità se tu lo metti tra le mani di un simpatico influencer che si chiama tommaso zorzi lui ti dice ho letto saramago e non ho capito perché gli hanno dato il nobel e qua noi abbiamo due possibilità o in modo un po snobistico diciamo ma come si permette tommaso zorzi chiunque sia e anche simpatico di dire come è possibile che a saramago hanno dato il nobel oppure chiederci e questo vorrebbe essere il senso di questa nostra conversazione perché gli sembra così strano che abbiano dato il nobel a saramago da che cosa dobbiamo partire qua perché zorzi l'ha detto veramente in un suo reel o una sua diretta non so a un certo punto maneggiava questo libro che è cecità tra l'altro uno dei più famosi di saramago e se volete anche dei più facili facile non è mai saramago ma se c'è un libro un po più facile di altri eccecità perché ha una metafora scoperta mentre se io leggo un libro come la caverna se io leggo un libro come saggio sulla lucidità come memoriale del convento come l'anno della morte di riccardo reich ovviamente trovo un saramago altrettanto compatto in termini stilistici ma anche un poco più opaco in termini di metafora una metafora che va stanata diciamo scavata di sotterrata diciamo così e invece in cecità alle prime pagine hai più o meno capito qual è il punto no e tuttavia però il modo in cui lui costruisce questa metafora è un modo stilistico molto particolare perché uno come zorzi e ovviamente non voglio minimamente essere irridente no sto cercando proprio di capire dice ma non lo capisco perché mi sembra sgrammaticato usa in un modo strano la punteggiatura e insomma rispetto a un ortodossia di scrittura se volete scolastica saramago sembrerebbe trasgredirla come ion fosse fa quando compatta diciamo dentro questo flusso tanti pezzi del racconto e quando per esempio nella scrittura dei dialoghi invece va a capo a differenza di saramago ma non usa i tradizionali segni di interpunzione quindi sono come frasi sospese affacciate sulla pagina senza che ci siano i punti le virgole a chiuderle e il lettore non dico naif ma poco allenato potrebbe avere un moto di stizza quasi di anche legittima di legittimo fastidio di legittimo sospetto perché scrive così perché scrive proprio così allora vorrei portarvi dentro una dimensione che è quella dell'attrezzatura che abbiamo usciti da scuola rispetto a delle scritture che potrei definire di formi eccentriche non necessariamente sperimentali in senso programmatico ma non legate a un modello stabilizzato di scrittura corretta quando tu esci da scuola e te ne vai da scuola hai la sensazione di aver frequentato un po di scrittori contemporanei in realtà sono molto retrodatati perché se ci pensate gli ultimi che sfioriamo appunto in campo della poesia magari sono montale se uno arriva a caproni è già molto avanti e se si tratta di scrittori c'è il solito calvino che uno affronta in vari momenti della vita ma mai sistematicamente come lettura extracurricolare e forse la professoressa al professore d'inglese un giorno dice ragazzi parliamo di joyce e ti mette davanti un'evidenza anche abbastanza sconcertante quella di una misteriosa pulizia formale dei racconti tra l'altro bellissimi che si chiamano dubliners gente di dublino bellissimi esatti puliti tradizionali ma con da un punto di vista della scrittura ma con dentro appunto una palpitazione epifanica potremmo proprio dire usando un lemma che a scuola incrociamo e che comunque ti resta impressa e poi a un certo punto ti dice però questo signor joyce un certo momento non si è fatto bastare quel tipo di prosa così composta così classica e ha cercato qualcosa e allora viene fuori il ritratto dell'artista da giovane vengono fuori degli esperimenti che spingono verso quel romanzo impossibile che è l'ulisse del quale spesso ci limitiamo a leggere delle esegesi più che la matrice originaria è un problema non aver letto l'ulisse no siamo tenuti a leggerlo no ci resta impressa mezza pagina perché c'è capitato di leggere il monologo di molli bene nel monologo di molli che chiude l'ulisse la punteggiatura come qualcuno di voi ricorderà salta completamente e non riesci a leggerlo ad alta voce come ho fatto con ion fosse ci riusciva una straordinaria attrice che era piera degli esposti che ne fece una pièce teatrale incantevole dove lei incarnava molli ma molli è raccontata sulla pagina attraverso il suo pensiero la sua testa scoperchiata e il pensiero potremmo dire alla lettera non ha punteggiatura io non è che penso coi punti e con le virgole io penso senza soluzione di continuità tutto si inanella tutto il momento in cui ho fame o voglio un caffè ha una frase di hegel che risuona nella testa incongruamente oppure se magari ho commercio con la cultura e l'intelligenza stratificata delle epoche oppure se ho altre altre passioni altri interessi sto lì magari con lo stesso desiderio del caffè e poi magari penso un momento dopo alla mia passione automobilistica ma tutto questo è letteralmente un flusso che quello scrittore ha provato a trapiantare sulla pagina a tradurre in un segno grafico che escludesse le tradizionali forme di interpunzione questo uno potrebbe dire di joyce no devi averlo letto tutto l'ulisse per capire questo no basta una campionatura bisogna arrivare a quello a quell'impossibile libro che supera ogni convenzione di libro prima esistente e cioè il finnegans wake non c'è bisogno quello è il massimo dell'illegibilità è un libro parossistico è un libro impossibile ma il punto è che solo sapendo che certe punte più avanzate nella storia della letteratura hanno tentato l'impossibile e hanno in fondo anche un po sfondato certi confini è solo intuendo questo avendo notizia di questo che anche l'eccentricità molto più addomesticata di altri scrittori non ci sembra scorretta la riconduciamo se volete a una tradizione nel rifiuto della tradizione spesso all'idea che ci siano scrittori che stanno come dire in una specie di zona più larga quella in cui la prosa è ad alta leggibilità e scrittori che invece cesellano il loro gesto provano a proporre un'idea per cui per esempio la lingua del racconto incrocia la lingua della poesia delle leggia diventa una lingua lirica diventa una lingua stranamente geometrica diventa una lingua risonante diventa una lingua che pure da un punto di vista sintattico grafico risulta creativa o terremotata o spezzata o un fiume in piena o impura insomma fanno questo tipo di movimento che produce un effetto mi verrebbe da dire parlando in termini di contemporaneità socializzabile diciamo così un filtro c'è un filtro letterario applicato alla lingua per cui non è la lingua dell'uso non è la lingua neo standard non è l'italiano dominante della comunicazione che spesso anche molti scrittori più o meno consapevoli usano senza preoccuparsi di quanto sia efficace la lingua della comunicazione dominante nella narrativa in realtà è semplicemente comunicativa non necessariamente efficace o interessante o sbalestrante o sorprendente o provocatoria la usano come userebbero la lingua dei giornali la lingua dei telegiornali ancora ancora peggio o ancora più esattamente ecco se uno però non ha questo sentore questo indizio di una strategia stilistica che volta proprio a rielaborare le possibilità della lingua e a produrre anche spiazzamenti di fronte a saramago ecco salta sulla sedia e dice ma questo scrive male questo non scrive come bisognerebbe scrivere in un'epoca in cui abbiamo come dire trip advisorizzato tutto il giudizio a quel punto estemporaneo può essere una specie di tribunale definitivo una delle cose che più mi hanno divertito nello stesso tempo anche un po amareggiato all'indomani del nobel a ion fosse era leggere una quantità di giudizi estemporanei dati con una disinvoltura che era quasi sconcertante perché nessuno si è permesso di dare lo stesso giudizio sul nobel sulla fisica questo fa anche pensare no su quanto la cultura scientifica ancora effettivamente non sia così trasversalmente maneggiata e l'illusione di poter gestire una cultura letteraria o se volete appunto umanistica come si dice in italia con questa abbastanza ormai superata contrapposizione tra cultura umanistica e cultura superata verrebbe da dire intellettualmente poi non superata nei fatti ma comunque insomma in ogni caso non ho letto dei commenti aspri su chi ha vinto il nobel per la fisica per la o per la chimica misteriosamente uno potrebbe dire forse nemmeno troppo perché la risposta ce la dà su questo punto e vorrei pregarvi di non pensare che io stia diciamo facendo una sorta di petizione elitarista o snobistica che impedirebbe a chi vuole di dire io non fosse è una cagata pazzesca come in un film che forse fuori dai vostri radar ma in realtà avete nella nell'anticamera dell'orecchio e cioè fantozzi che è una specie di maschera laica diciamo così dell'eterno impiegattizio diciamo così e frustrato cittadino cosiddetto comune lui a un certo punto proprio in un modo esuberante di fronte a un capolavoro della cinematografia delle origini urla prendendosi un sacco di applausi la corazzata potionchina una cagata pazzesca no dopo ora di dopo un'ora di dibattito peraltro ecco là naturalmente era un grido liberatorio no che ti scrolla pure di dosso certe ipoteche un po pretenziose l'idea del cinema come diciamo dal cinema da cinefili a tutti i costi quindi aveva anche una sua forza giocosa ludica il rischio è che però invece questo questo urlo di fantozzi questo urlo fantoziano sia diventata una specie di moneta comune per cui io non so di che cosa stiamo parlando non riesco a ricondurlo a niente ma isolandolo lo giudico rispetto a un'idiosincrasia estemporanea ribadisco sto semplicemente registrando il fenomeno perché sennò immediatamente diventerebbe un discorso moralistico però è interessante registrare la disinvoltura con cui si giudica io non fosse e si dice come ho letto va sicuro in tutte le salse su facebook da persone che non avevano letto che mezza pagina magari quella proposta in quel giorno dal giornale o dal sito di turno dicendo ah ma questo che dialoghi scrive allora il nobel lo potevo vincere anche io che è una cosa bellissima da un certo punto di vista anche questa illusione di essere diciamo all'altezza di tutto tipica pure questa del ventunesimo secolo in corso e se ci pensate anche molto legata al nostro rapporto o al rapporto di molti con l'arte contemporanea che particolarmente si presta a quell'effetto quando si va alla biennale quando si va a una mostra dell'arte contemporanea a quell'effetto di facile perché la perché prevale magari il dato di provocazione no tu a un certo punto vedi una scopa appoggiata a un muro ti dicono che un'opera d'arte ma tu fino a un attimo prima avresti pensato che era proprio qualche inserviente che aveva lasciato la scopa appoggiata al muro però guardi bene c'è un'etichetta è un certo punto anche un po per come posso dire scrollarti di dosso certe responsabilità interpretative dice vabbè avrei potuto farlo pure io ma che cos'è questo è un meccanismo interessante che però ha a che fare con la nostra indisponibilità a non capire questa è una strana società di cui facciamo parte tutti che pretende di capire e anche sanamente legittimamente solo che presume di avere gli strumenti per farlo e spesso sopravvalutandoli c'è un bellissimo anche se molto cerebrale romanzo di uno scrittore catalano che si chiama enrique vilamatas molto sofisticato iper letterario uno che appunto sui giornali magari spesso nelle interviste dice la letteratura per come l'ho amata io non circola più a nessuno interessa più i suoi libri sono pieni di riferimenti di rimandi di fantasmi letterari mi affascinano molto certo rischiano un complesso endogamico perché sono libri che continuamente riflettono proprio sulla sulla letteratura da cui provengono sull'iper letteratura da cui provengono che però a un certo punto candidamente in un libro che si intitola castle non invita alla logica dice fa dire al personaggio che è un po' un alterego dell'autore io detesto l'arte contemporanea io non la sopporto ogni volta che vedo un'opera d'arte contemporanea mi viene una voglia di scappare in un museo in cui si vedono solo rembrandt velasquez voglio proprio tornare là dove stanno quei ritratti bellissimi che sembrano guardarti spiarti ho bisogno di arte moderna quando vedo l'arte contemporanea e sapete perché succede questo perché si trova a castle dove c'è una delle più importanti fiere d'arte contemporanea a un certo punto però una specie di agnizione di riconoscimento della sua insufficienza interpretativa e dice questa frase che per me è diventata quasi un mantra dice sì certo perché in fondo avrei la pretesa di capire e molto spesso non capisco di fronte all'arte contemporanea dobbiamo ammettere più che di fronte a rembrandt o a velasquez che non capiamo allora vai a vedere l'etichetta legge la didascalia ma non capisci ma che vuol dire perché è così ma dice bilamatas con questa frase che vi ribadisco è diventata una specie di mio monito mentale costante non capire è una porta che si apre se uno accetta la sfida di non capire credo nella propria vita intellettuale assumerebbe molto di più di quello che invece di solito assume nella pretesa di aver già capito in fondo prima ancora di provarsi a capire allora in questo senso no questo non capire una porta che si apre presuppone appunto una disponibilità anche all'incomprensione ma immediatamente corretta se volete questa incomprensione dalla volontà se non di arrivare a una risposta alla domanda giusta cioè e qua arriviamo forse al primo e penultimo diciamo dei movimenti che volevo farvi fare per poi entrare in questo martinamis che ho evocato e ancora non affrontato è il punto è proprio quello che devi farti la domanda giusta la domanda giusta sarebbe perché io fosse scrive così perché sarà mago scrive così non non capisco perché sarà mago scrive così ma c'è un motivo per cui scrive così nel momento in cui metto in questo tipo di dialettica con l'opera probabilmente cambia qualcosa e d'altra parte dicevo è quella pretesa di aver capito di sapere di poter giudicare ha a che fare con un dato che diventa sempre più visibile che proprio martinamis ci richiama in questo libro da cui in fondo la riflessione parte a cui tra poco approderà cioè la storia da dentro questo è l'ultimo romanzo che lui ha lasciato non sapeva naturalmente che poteva essere l'ultimo romanzo ma ho l'impressione leggendolo ho avuto l'impressione leggendolo è uscito da poco per einaudi che sentisse di dover costruire un po di lascito testamentario perché curiosamente a un certo punto dice proprio esplicitamente ma adesso ho da fare devo devo prepararmi ad andarmene devo prepararmi a morire sapeva di star male sicuramente ma insomma in ogni caso l'impressione è quella che lascia un dispensario di consigli sulla scrittura offerto a un ipotetico giovin scrittore uno che si installa nel suo studio a colui costantemente si rivolge e davvero funziona ve lo dico anche come incoraggiamento alla lettura che tra l'altro lui stesso autorizza come lettura episodica la cosa bella che ti dice all'inizio del libro puoi leggertelo pure saltando le pagine andandotene dove ti pare qua dentro e ogni tanto troverete degli smaglianti consigli di scrittura quindi ve lo suggerisco come autoregalo di natale alla modica cifra di 25 euro al massimo con un 5 per cento di sconto che è il massimo della scontistica prevista attualmente dalla legge però in ogni caso o ve lo fate regalare o ve lo regalate trovate dentro dei consigli illuminanti su come si fanno i dialoghi per esempio la gente parla per frasi corte quindi non fate dire alla gente che parla nei libri frasi lunghe tu dici vabbè ci poteva arrivare da solo però te lo dice martinami se ci credi è così poi ti dice attenti non vi fidate troppo delle scene di sesso perché una delle cose su cui più frequentemente cade uno scrittore è una scena di sesso e poi dice un'altra cosa ancora più importante però diffidate sempre ogni volta che potete dei luoghi comuni di tutto ciò che è ascrivibile a un'idea generica delle cose se la scrittura letteraria o la scrittura in toto ha un valore è perché il contrario del generico tutto quello che diciamo nell'esistenza è abbastanza generico il modo in cui ci esprimiamo è generico parlando ovviamente parlando con gli altri appunto facendo dei dialoghi che poi possono essere dei buoni dialoghi da romanzo ma quando io scrivo quando io intensamente cerco di vedere qualcosa devo essere non solo concreto ma stare al polo opposto del generico e quindi dice ogni frase fatta o la usate in una chiave ludica ironica critica oppure dovreste buttarla fuori se vi risulta troppo già sentita logorata dall'uso o ci state giocando con quella frase oppure buttatela via perché uno scrittore ha il dovere dice a un certo momento di cercare qualcosa di diverso di fare la differenza da questo punto di vista che è una questione non solo linguistica ma addirittura etica dice lui provare a non essere dentro ai luoghi comuni dentro alla convenzione dentro al conformismo allora dentro tutto questo dispensario c'è una specie di romanzo esploso ed è affascinante il fatto che se lo leggesse tommaso zorzi a cui però non lo consiglieremo potrebbe pensare che questo non è un romanzo e cioè ci potrebbe dire vabbè ma la storia dove sta dove la trama dove il nesso causa ed effetto che agisce nella 90 per cento dei romanzi cosiddetti tradizionali non c'è perché non gli interessa che ci sia dunque la domanda che io proponevo è perché martinamis fa così perché scrive un romanzo senza romanzo perché scrive un romanzo che si contraddice continuamente perché anche se alla fine io potrei arrivare a pagina 600 e rotti e di rebano mi ha convinto non importa ma ha portato dentro un'esperienza alternativa una sorta di meta esperienza o di meta esperienza letteraria che vuole farmi riflettere su che cosa significa scrivere ovvero leggere un romanzo e perché al fondo quasi di questa conversazione voglio fermarmi su due tre zone di questo libro di martinamis perché a un certo punto lui ci dice che scrivere è una cosa che tutto sommato oggi e forse da un po di tempo sanno fare tutti ecco perché questa come dire spinta questo slancio al giudizio viene così senza ostacoli perché scrivere sappiamo tutti farlo o almeno crediamo di saperlo fare in un librino di baricco recente che si chiama le vie della narrazione e baricco stesso riflette su una società iper capace o almeno illusa di esserlo iper capace di scrivere scriviamo e produciamo continuamente testi e cerchiamo scuole di scrittura che ci allenino questa e altre a scrivere meglio ma non necessariamente perché vogliamo diventare degli scrittori ma perché anche in una specie di hobby di lusso in un dilettantismo generoso e tutto sommato anche luminoso vogliamo dare un compimento alla nostra esistenza attraverso la scrittura dice lui e mi sembra un'immagine smagliante come se fosse una cerimonia del tè di massa dove fino a qualche tempo fa la cerimonia del tè richiedeva dei una perizia di gesti una misura un'esattezza del gesto oggi in fondo siamo invitati tutti tutti possiamo partecipare alla cerimonia del tè allora chi è che fa la differenza boh non lo so più a questo punto senza dubbio alla cerimonia del tè nel tempo passato e nel presente ancora partecipa qualcuno che ha una sorta di iper consapevolezza di quel gesto e vorrebbe promanarla emanarla rispetto a ciò che produce ecco che arriva un tipo di scrittore che oggi se sembrerebbe effettivamente in una posizione difficile uno scrittore che pretende se stesso come alternativo anche proprio nelle scelte strutturali e stilistiche c'è ancora spazio per questo tipo di scrittura per questo tipo di proposta voglio leggervi un passaggio in cui martin emis racconta due tipologie di scrittori una tipologia di scrittore di tipo a tra l'altro è una diciamo di differenza una distinzione che fece anthony burgess nel 73 dice emis nel 73 anthony burgess lanciò il concetto che in realtà ci sono due tipi di romanzieri che chiamò di tipo a e di tipo b i romanzieri di tipo a sono interessati alla narrazione al personaggio alla motivazione all'analisi psicologica mentre romanzieri di tipo b sono interessati soprattutto al linguaggio al gioco delle parole sta cioè provando a dirci che ci sono e questo secondo me è un dato di fatto anche se un po' un'estremizzazione narratori più votati alla trama la costruzione della trama e hanno delle trame prodigiose articolatissime di grandissimo impatto anche appunto sull'immaginario e narratori la cui il cui spessore in termini narrativi è minimo e lavorano per l'appunto su una specificità linguistica stilistica tante volte le cose si assommano no si integrano a volte si confondono addirittura e troviamo straordinari congegni narrativi che però hanno una lingua anche particolarmente accesa particolarmente elaborata e curata quello che dice qualche pagina dopo però è che al di là della differenza tra romanzo di tipo a o romanziere di tipo a e romanziere di tipo b c'è una sorta di sparizione in atto che ha a che fare con un certo genere di romanzo letterario io volevo intitolare infatti questa serata con un sottotitolo che però contravveniva diciamo alla normativa della titolazione secca di questi incontri volevo intitolarlo e chiedendovi di portare anche una candelina se volevate diciamo per celebrare insieme questo lutto festa da dio al romanzo deduttivo perché martin amis dice a un certo punto non è che sia morto il romanzo non ve lo ricordate non me lo ricordo nemmeno io per età ma c'è stata un'epoca del novecento cinquanta sessanta in cui se c'era un argomento che affascinava gli intellettuali soprattutto francesi era la morte del romanzo a un certo punto quintali di pagine dibattiti sui giornali il romanzo è morto il romanzo esaurito il romanzo non ha più un senso dopo il modernismo dopo la stagione modernista entrando nel post moderno insomma lambiccatissimi esercizi di intelligenza che volevano arrivare alla sanzione definitiva della del funerale del romanzo in realtà la realtà in realtà scusate il gioco di parole ma il paesaggio circostante ci restituisce un'esuberante vitalità del romanzo se ci pensate in quegli 80.000 titoli a cui alludevo nella lezione precedente che vengono pubblicati ogni anno in italia ogni anno 80.000 libri beh una parte del leone la fanno proprio romanzi la narrativa dunque vivissima vitalissima ma dice emis e qua vorrei arrivare a a un punto di provocazione dice beh il romanzo deduttivo è morto se c'è un tipo di romanzo che oggi effettivamente i lettori non amano più è un romanzo che chiede al lettore una collaborazione vale a dire quel tipo di domande che vi che vi facevo prima e che riassumevo in una perché sta facendo così perché io non fosse scrive così perché joyce scrive così perché saramago scrive così qual è il valore di una scelta stilistica di questo tipo sull'economia complessiva del romanzo laddove il lettore si trova dice emis forse provocando un po dice emis deve il lettore deve trovarsi a interpretare le scelte del narratore è come se si sentisse disorientato un po inerme e quindi se ne va c'è stata una chiara riorganizzazione scrive emis a un certo punto del rapporto fra scrittore e lettore un rapporto anche nei periodi più banali di inesauribile complessità e profondità ci piacciono i libri difficili proclamavano i letterati e questa supposta preferenza divenne il grido di battaglia per la causa dell'alto modernismo forse è vero che c'è stato un tempo in cui ci piacevano i libri difficili ma adesso non ci piacciono più i romanzi difficili sono morti almeno in parte non corteggiano più la difficoltà perché il rapporto lettore scrittore ha cessato di essere collaborativo qualunque cosa tu faccia dice emis forse in un modo un po esageratamente pessimistico non aspettarti che il lettore deduca qualcosa questo punto è interessante perché dicevo festa da dio al romanzo deduttivo presupporrebbe che quel tipo di romanzo che ha una grana stilistica particolare che ha degli aspetti digressivi che soverchiano gli aspetti narrativi effettivamente è un romanzo che oggi fatica a trovare una dialettica col pubblico da un certo punto di vista potrei banalizzare dicendovi se voi azzardate un po troppo stilisticamente per essere anche molto trasparente e andate dall'editore di turno è plausibile che l'editore di turno anche ben intenzionato perché è interessata la vostra proposta vi dica però sperimenta un po meno riduci il grado di complessità perché sei così ellittico perché sei così spericolato stilisticamente abbassa il grado di complessità renditi più trasparente ispessisci il filo narrativo è come se l'asse si fosse del tutto sbilanciato rispetto appunto alla narrativa che non richiede troppa collaborazione il che non vuol dire che questa sia una narrativa priva di valore anzi forse la narrativa dominante piena anche di un valore conoscitivo ma usa delle strategie di semplificazione di questo grado di complessità di questo diciamo nucleo che richiede poi un lavoro deduttivo da parte del lettore arrivo quasi al fondo di questo ragionamento questa può essere scambiata questa diciamo così osservazione sulla morte del romanzo deduttivo anche appunto per una petizione snob elitaria come se uno rivendicasse alla letteratura uno spazio di non intellegibilità completa come se uno dicesse appunto no ma io voglio farla difficile in realtà è anche questo un po forviante perché io non credo che io fosse o saramago o anche martin emis fossero lì a scrivere i loro libri per rendere la vita impossibile al lettore ma convinti che in quel commercio deduttivo in quella trattativa per cui il lettore può anche non capire ma prende il non capire come una sfida ci fosse un valore aggiunto cioè ci fosse un sovrappiù d'esperienza come una sorta di alternatività di quell'esperienza del romanzo rispetto qua arriviamo al punto quasi finale rispetto ad altre forme narrative dove non si assimilava in qualche modo ad altre forme narrative lo specifico del romanzo e di un romanzo che a questo punto ho bisogno di definire letterario facciamo conto che non ci piace saramago non ci piace joyce non ci piace io un fosse non ci piace emis ma nel momento in cui leggiamo crista wolf virginia wolf per esempio tutto questa galassia di scrittori che sarebbe un po riduttivo definire sperimentali ma scrittori che scommettono sull'alternatività dell'esperienza che propongono ecco facciamo pure conto che non ci piacciono nessuno di questi e tuttavia anche entrando in un singolo libro di virginia wolf anzi mi verrebbe da dire in una singola pagina di virginia wolf noi sentiremmo la sua alternatività rispetto ad altre esperienze narrative cioè c'è una singolarità che è marcata da quello spazio stilistico e che effettivamente non è assimilabile a nient'altro cioè io che amo penso sopra o quasi sopra ogni cosa un romanzo che si chiama mrs dalloway di virginia wolf e una volta che l'ho letto ho pensato bene non mi era mai capitato di leggere una cosa così posso leggere migliaia di cose ma nessuna mi restituisce attraverso un'alleanza strategica e geniale tra contenuto e forma questa alternatività che cosa c'è di deduttivo nel romanzo modernista come nel caso di wolf e il fatto che non c'è una trama da un certo punto di vista anche questo produce nel lettore uno sforzo deduttivo per chi non l'avesse presente questo romanzo ma credo che tutti più o meno ne abbiate notizia è un romanzo che comincia con un incipit tra l'altro nella sua semplicità folgorante la signora dalloway disse che i fiori li avrebbe comperati lei ed è la giornata della signora dalloway e della festa della signora dalloway che deve organizzare appunto un ricevimento per un compleanno di mezza età non succede niente la signora dalloway vive la sua giornata ma dentro la sua giornata noi entriamo come se una giornata una singola giornata di un essere umano fosse il distillato di un'intera vita dentro una singola giornata c'è una vita intera perché c'è il tuo passato che ti perseguita che ti riconvoca e c'è il tuo futuro che è un presagio un indizio una paura una minaccia è un romanzo sul tempo come sono i romanzi di virginia wolf to the lighthouse al faro mrs dalloway orlando sull'identità e il tempo l'identità la prova del tempo mi viene da dire così la deduzione il grado di deduzione che richiede è proprio perché mi sta raccontando questo pensate che quando lei annotava virginia wolf le sue riflessioni intorno al lavoro su al faro e sulla signora dalloway che sono due romanzi gemelli in qualche modo tutti e due scritti cent'anni fa quasi esatti siamo nel 23 25 e dell'altro secolo lei diceva ma io non so se la parola romanzo sia la parola giusta vorrei scrivere questi romanzi come fossero delle elegie elegia è una parola che non riesco a tradurvi bene perché rimanderebbe diciamo a un comparto della poesia latina elegiaca o forse a una sfumatura di una certa liricità per l'appunto elegiaca morbida malinconica sfumata ma è difficile dire che cos'è come genere letterario l'elegia e dunque come vedete è contravvenendo alla stabilizzazione alla cristallizzazione di un genere che lei trova il suo modo di fare il romanzo e nel momento in cui trova il modo di fare il suo romanzo quel romanzo diventa eccentrico rispetto a una tradizione che lo precede questo tipo di scrittore quindi che è sempre esistito e spero a differenza delle degli annunci funebri che fa martin emis sempre esisterà oggi oggettivamente è un po più in difficoltà e io volevo come dire per avviarmi a concludere questa chiacchierata porvi una domanda che lui martin emis apporre dico due ultime cose ovviamente dentro questo romanzo che ho tra le mani la storia da dentro che è intitolato in lingua originale inside story martin emis fa una sorta di esperimento che aveva ripete una sorta di esperimento che aveva fatto già con un altro libro del 2000 che si chiama esperienza che non so se è reperibile ma penso ritornerà in catalogo ed è uno stranissimo esperimento di autobiografia che diventa però un faldone spurio di materiali ci sono dentro come in questo caso fotografie pezzi di vita vera intesi proprio come documenti dell'esistenza lettere scritte da ragazzo e recuperate pezzi di vita che riguardano il padre kinsley che era a sua volta uno scrittore momenti e poi digressioni saggi innestati dentro al corpo del romanzo quindi anche esperienza come la storia da dentro e lui stesso ci autorizza è un'esperienza di lettura come posso dire desultoria cioè c'è un movimento che fai così e senti talvolta entri dentro la narrazione poi questa narrazione interrotta poi c'è una spinta centrifuga poi di nuovo una spinta centripeta e soprattutto un'organizzazione dei materiali come davvero una specie di monumentale faldone dell'esistenza pensate che al fondo di la storia da dentro come al fondo di esperienza c'è addirittura un indice dei nomi cosa abbastanza strana per un romanzo perché a tutti gli effetti è un organismo romanzesco ma l'indice dei nomi perché perché a un certo punto lui racconta che ha conosciuto questo grande scrittore inglese che era sol bello e poi a un certo punto parla di suo padre kinsley amis allora tu trovi kinsley amis pagina x y rapporto con il bere pagina x y ecco questa idea di costruire un indice dei nomi per un romanzo già di per sé è abbastanza prodigiosa e se volete richiede un esercizio deduttivo perché mette un indice dei nomi in un romanzo perché e tu non sai bene rispondere ma capisci che quella scelta stilistica l'opzione stilistica può avere un senso può avere una sua necessità può dirci qualcosa anche se l'esperienza nel complesso non dovesse persuaderci allora il punto qual è arrivando davvero alla fine di questa riflessione e chiedersi che scopo abbia un romanzo è una domanda oziosa e per certi versi versi mi respinge perché posta nei termini in cui l'ho appena posta so bene qual è il limite di questa domanda piegare un gesto artistico a una necessità ma se alla necessità sostituiamo l'urgenza se alla necessità come scopo funzionale utilitaristico sostituiamo quella specie di elettricità che emanava dalle pagine di fosse colletto all'inizio cioè che cosa vado cercando in un romanzo che cosa voglio da un romanzo allora capite che anche se siamo arrivati al fondo di questa discussione da qua potremmo riaprirla perché non significa stabilizzare o istituire un senso per il romanzo a che cosa serve in generale ma attenzione a che cosa serve a me detto in altri termini io io come singolo lettore che cosa voglio quando leggo un romanzo ognuno ha la sua risposta adesso in cuor suo e probabilmente sono risposte opache perché se io chiedessi di verbalizzarle tutti risentiremmo di una difficoltà di ma perché mi chiedi che ne so voglio essere intrattenuto voglio voglio trovare una buona storia scrivo e quindi mi interessa leggere ognuno ha le sue ragioni molto ribadisco opache e contraddittorie ma in realtà se noi ci sfidiamo ci sfidiamo veramente e proviamo a istituire un patto di onestà sapremmo riconoscere che la gran parte dei libri che abbiamo letto è una cosa brutta da dire in una scuola di scrittura però la dico anche se siamo in semidiretta qua siamo registrati diciamo non li ricordiamo perché è impossibile ricordarli perché se ne vanno via come nello scolo della doccia dopo che tu hai fatto un viaggio che non ti ha lasciato tracce i viaggi che restano sono anche quelli più sgangherati quelli magari addirittura in partenza più ostili più difficili più insensati per l'appunto che però fatti la doccia quando torni non se ne vanno la gran parte dei romanzi che leggiamo passano dentro la nostra testa come la gran parte delle serie tv che vediamo è molto difficile rimettere a fuoco il nostro rapporto con la serialità televisiva non perché sia subordinata alla grandezza del vecchio cinema non ragiono in questi termini che mi erano appunto del tutto fuori tempo ma perché è difficile tra le tante serie tv che abbiamo visto ricordarcene qualcuna che non abbia soltanto soddisfatto il nostro bisogno di essere intrattenuti e che ci abbia in qualche modo generato delle domande che appunto ci imponevano un processo di deduzione e dunque restano certi film restano certi certe esperienze musicali restano certi romanzi i quali non ci hanno magari del tutto persuaso ma ci hanno creato una sorta di spiazzamento stordimento perturbamento strani straniamento per qualche verso anche una incomprensione per l'appunto dice martinemi se su questo chiudiamo a un certo momento però non si può essere privi di scopo monotonamente privi di scopo di scopo per l'intera vita adulta bisogna cercarselo uno scopo e allora se tutto diciamo deve tendere a uno scopo che non sia solo utilitaristico che sia appunto volto a una ricerca di senso chiedersi che cosa realizza un romanzo a che cosa serve diventa meno respingente di quello che sembrava e vi leggo questo passaggio cosa c'è di buono in un romanzo che cosa realizza mi piace questa domanda tra l'altro che cosa realizza un romanzo a che cosa serve sulla questione ci sono come spesso accade due opposte scuole di pensiero in questo caso esteti contro funzionalisti gli estetici spiegano un po annoiati e quasi compatendoci che il romanzo non ha assolutamente alcuno scopo i funzionalisti considerano che tendenzialmente il romanzo favorisca il progresso la narrativa è o dovrebbe essere impegnata a migliorare la condizione umana beh ho sempre pensato che i progressisti potrebbero avere torto ma gli esteti non possono avere ragione volendo possiamo con una certa affettazione ammettere che un particolare tipo di romanzo è privo di scopo ma può essere privo di scopo monotonamente privo di scopo per l'intera vita adulta un romanziere o chiunque di noi mi sembra una questione di pressante interesse qual è lo scopo della mia giornata media se me lo avessi chiesto cinque anni fa si rivolge direttamente al suo interlocutore giovane scrittore avrei citato imperturbabile john dryden secondo il quale lo scopo della letteratura è dare istruzione istruzione e piacere il verdetto risale a tre secoli fa e a mio avviso ha resistito bene speri di dilettare e anche distruire istruire però in un modo che possa stimolare la mente il cuore sì l'anima del lettore rendendo più pieno e più ricco il suo mondo la mia ambizione questa immagine bellissima riassunta da un personaggio minore del tardo romanzo di sol bello il dicembre del professor corde è un canerandaggio nelle strade di bucarest i cui irrefrenabili latrati sembrano aperte virgolette una protesta contro le limitazioni dell'esperienza canina per amor del cielo aprite l'universo un po di più ecco questa idea di un romanzo che senza piegarsi a uno scopo utilitaristico cerca di rendere più ricco e più il mondo del lettore è assimilabile a questo grido a un grido che richiede una sorta di apertura ulteriore dell'universo aprite l'universo un po di più i limiti dell'esperienza canina ovvero umana sono troppo stretti e di tanto in tanto accettiamo che il romanzo privo di scopo ci intrattenga ma quello che forse fa la differenza è quello che invece uno scopo in qualche modo se lo prefissava se lo prefiggeva e lo traduceva in un'alternativa esperienza stilistica cioè faceva questo sforzo appunto di rendere semmai più disagevole il cammino al lettore senza per questo rendergliela impossibile la strada perché al fondo pretendeva che il lettore fosse leggermente diverso dal modo in cui era entrato dalla porta d'ingresso del romanzo e cioè che il romanzo si traducesse in qualche modo in un'esperienza conoscitiva un'esperienza conoscitiva del tutto fuori asse rispetto a quella incarnata dalla saggistica da una saggistica scolastica universitaria di apprendistato tradizionale ma una forma di apprendistato altro che non può che fare leva sulla capacità di deduzione del lettore e quindi in qualche modo sulla sua disponibilità se vogliamo a non capire o a far finta di non capire per aspettare che ci sia la rivelazione di una posta in gioco e per questo penso che quella posta in gioco sia riassunta bene nella lingua strana che ha un libro come quello di jon fosse quando vidme dice che tutto sarebbe o pensa e dice che tutto sarebbe andare più a fondo condursi nelle profondità più recondite di qualcosa che lui in momenti improvvisi istanti felici di lucidità è arrivata a considerare come un lampo divino ma sia il lampo sia il divino sono espressioni che a vidme non possono piacere se non avesse disprezzato così tanto queste espressioni avrebbe potuto dire che in singoli istanti illuminati ha avuto un'esperienza che non può negare un'esperienza che può anche sembrare ridicola e ridicola sia per vidme sia per la maggioranza della gente però in alcuni istanti di grazia se solo potesse fare uso di questa espressione vidme uno scrittore fallito quanto basta invecchiato presto si è reso conto di essere stati in prossimità di ciò che con un'espressione che non si sarebbe mai immaginato di utilizzare non può chiamare altro che il divino grazie per aver ascoltato eccoci qua abbiamo superato le otto ci prendiamo ancora se sei d'accordo 5 6 minuti solo se ci sono però domande o interlocuzioni da lontano da vicino se volete almeno una così tanto per non far vedere che proprio non si apre una dialettica una domanda c'è là una mano c'è anche un microfono che può raggiungerti o ciao allora prima di tutto grazie hai detto tantissimo però leggendo cioè nel mentre tu parli di quello che dice dice martin amis a un certo punto dici che una delle cose che martin amis voleva dire è che il romanzo difficile è morto però il tuo ultimo libro che hai scritto romanzo senza umani è un romanzo difficile quindi volevo sapere se prendi tutto un po' una provocazione poi se 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 tu l'hai ritenuto difficile e se per te è stato difficile scriverlo che rapporto hai con i tuoi libri difficili è proprio hai colto diciamo così anche un forse non dico un ossessione però una preoccupazione che ha guidato la scrittura e poi il lavoro intorno a questo libro in termini di promozione cioè una delle cose che mi sono sentito dire preliminarmente e quindi da lì è nata poi anche la riflessione quando ho incrociato amis che tra l'altro usciva proprio nel momento in cui io anche stava per uscire questo libro e quindi a un certo punto mi sono detto ma perché mi ripetono spesso che è un romanzo complesso cioè se questa è una e non ha non è che sto dicendo che questo complesso implichi un giudizio positivo perché sarebbe anche imbarazzante assimilarlo no complessità e riuscita o appunto rilievo stilistico eccetera dico semplicemente che i primi lettori anche solo editoriali e dicevano beh però è letterario però è complesso mi chiedevo ma che vuol dire letterario è complesso no rispetto appunto alle opzioni che avevo che avrei potuto probabilmente perseguire facendone un romanzo meno letterario meno complesso questo era quello che magari veniva richiesto diciamo sottilmente in qualche modo al di là del caso mio specifico certo che guardo a una letteratura altrimenti non sarebbe venuta fuori questa riflessione che fa un po questo per statuto cioè non ti rende difficile la vita come dicevo tanto per rendertela difficile ma a costo di far fallire il libro cioè io ho preso come posso dirvi non parlo del mio perché appunto è imbarazzante no parlare anche delle proprie cose in modo così trasparente aperto dico anche nel caso di emis per esempio è evidente che esperienza o la storia da dentro sono romanzi esplosi non posso dire falliti esplosi dove tu senti che ci sono tante cose dentro e non stanno insieme perché non possono stare insieme perché lui non è che gli esplosa questa cosa tra le mani l'ha fatta ma è esploso il romanzo perché ha messo tutti gli ingredienti perché esplodesse cioè con consapevolezza l'ha fatto esplodere ecco anche questa è una cosa tipica del nostro tempo no di attribuire una specie di aria naif come se tu avessi inciampato no fossi inciampati ma non gli è riuscita di fare questa cosa in realtà tu non volevi che riuscisse in tutto e per tutto se riuscire significa trovare una forma per l'appunto semplice lineare uso un'espressione che ha a che fare proprio con questo il romanzo non lineare chiamiamolo così non è un'invenzione dell'altro ieri no è un'invenzione se vuoi che data se vogliamo stare solo al ventesimo secolo proprio a quella stagione modernista la stagione di faulkner la stagione di wolf la stagione di di joyce per certi versi ma anche di proust cioè dei grandi modernisti quelli che hanno sfasciato il romanzo ottocentesco e già flaubert aveva intuito delle possibilità oltre balzac cioè è ovvio che hanno fatto evolvere quella forma e quindi in qualche modo hanno messo in discussione quella linearità se volete assolutamente cristallina che governava i romanzi del secolo diciannovesimo quindi per arrivare al punto però e non fartela troppo lunga sapevo perfettamente di scrivere un romanzo e mi sono sentito confortato da letture come queste perché dicevo io sto dentro uno spazio di dialogo segreto con autori a cui naturalmente nemmeno da lontano mi paragono ma che sento simili in una ricerca di alternatività dell'esperienza narrativa cioè io credo che quello che ha guidato questo tipo di libro per esempio sia stato quello di far dire al lettore cosa che è successa quindi ve la dico candidamente anche oddio non ci sto capendo molto no entri in un romanzo che ti porta nel cinquecento poi dopo tre pagine arrivi nella piena contemporaneità e dici oddio ma dove sono no oppure delle frasi che a fine capitolo si interrompono e continuano nel capitolo successivo cioè non è niente particolarmente originale tra l'altro anche questo potrebbe essere scambiato per originalità è semplicemente tentare di fare un movimento che ha un'azione anche sul piano sintattico grafico che ti costringa a sentire una differenza con la lingua dominante con il romanzo dominante il che non vuol dire presuntuosamente mettersi in antagonismo ma cercare di stabilire un elemento di differenza perché quello che mi ha sempre suggestionato e appagato nelle letture che ho fatto di un certo tipo di romanzo era proprio il fatto che era un'esperienza specifica non assimilabile a nessun'altra perché è qua veramente entra in gioco il giudizio ne parlavamo pure prima a lezione con qualcuno tra voi perché qualcuno mi ha chiesto giustamente perché che cos'è la letteratura no puoi chiedertelo ma che cos'è la letteratura per me un'esperienza alternativa che passa da una specifica verità linguistica un'esperienza alternativa di conoscenza che passa da una specifica verità linguistica cioè il modo in cui è formulata stilisticamente la storia fa la differenza e invece mi sembra che prevalga non è che mi sembra a me è evidente che prevalgono storie raccontate come si raccontano tutte le altre storie cioè non è facile sentire nei romanzi magari anche particolarmente premiati da un successo di pubblico che c'è una differenza mi viene in mente sempre baricco che in una riflessione che faceva in un libro che tra l'altro raccoglie dei testi sulle letture che ha fatto lui nel tempo e cioè una certa idea di mondo leggeva un romanzo mi pare di no scusate questo l'ha scritto nel nuovo barnum ma comunque in ogni caso fa poca differenza leggeva un romanzo di pamuk che si chiama il museo dell'innocenza romanzo interessantissimo più tradizionale di quello che invece è se lo confrontate a un libro che si chiama l'innocenza degli oggetti e che è il catalogo questa esperienza incredibile che ha fatto questo scrittore turco anche lui premio nobel per la letteratura e cioè di costruire a istanbul un museo che partisse un piccolo museo che partisse dal romanzo stesso e che creasse un'occasione di visita degli spettatori dentro al mondo dei personaggi ovvero per farvi un esempio plastico tu trovi custodita in una teca la sigaretta sporca di rossetto che il personaggio della ragazza del museo dell'innocenza ha fumato nel romanzo ma non esiste la ragazza del romanzo non esiste manco il fatto che ha fumato una sigaretta ma quella sigaretta diventa l'incarnazione di un oggetto simbolico che sta nel romanzo quindi le cartoline che si sono mandati il piattino del del caffè che hanno bevuto l'infuso degli oggetti assurdi il franco bollo la penna con cui hanno scritto messi sotto teca come se una ciocca di capelli come se uno entrasse dentro un museo di incarnazione dell'immaginazione romanzesca quando baricco ha sentito questa storia che effettivamente aveva colpito anche me dice conclude il fatto è che chiunque ami la forma romanzo o addirittura la pratichi come mestiere sa che è una forma esausta tipo oli esausti un'espressione bellissima che appare di tanto in tanto ai distributori di benzina non c'è problema a farla durare ancora decenni ma solo quelli privi di talento pensano che vada bene così gli altri sanno che è un paradiso un po asfittico ci si divertirebbe molto di più se si riuscisse a evaderne il problema è capire come e quindi stava dicendo che in quel cortocircuito che creava il museo degli oggetti dell'innocenza col romanzo più tradizionale ma che costruiva un asse un legame con l'esperienza proprio addirittura fisica che il museo ti consente di fare è come se pamuk fosse andato oltre se stesso come se avesse fatto qualcosa per cui dilatasse rendesse realtà aumentata l'esperienza narrativa e quindi questo è un valore simbolico perché implica un ragionamento complessivo su quello che noi ci chiediamo io infatti volevo lasciarvi con questa domanda non con riflessioni su il mio libro che comunque lascio qua in omaggio alla causa diciamo se uno vuole usarlo anche per poi farsi l'idea che non valesse la pena leggerlo insomma sono tante possibilità ovviamente no però lo lascio qua in chiave gratuita di omaggio ma era semplicemente un pretesto perché ho l'impressione e anche di questo stavamo parlando prima che ci sia a volte un eccesso di inconsapevolezza anche nell'aspirante scrittore o scrittrice cioè che tu non ti sia fatto fino in fondo la domanda ma io non a che cosa serve che suona male ma io che esperienza voglio produrre che specifica esperienza del mondo voglio produrre scrivendo un libro perché sto scrivendo questo libro che pure quella domanda fondativa che spesso noi come dire obliteriamo a favore di un'urgenza che sentiamo ma che non interroghiamo a sufficienza questo è un po il senso e quindi ma finisco veramente ho costruito un libro che è un palinsesto di possibilità dove c'è un po di romanzo storico che si innesta poi sul romanzo contemporaneo un'idea sintattico grafica di movimento che apparentemente è spezzato e che invece crea un incatenamento dei tempi e anche un'idea di libro di viaggio contenuto dal romanzo perché in certi momenti questo lago di costanza raccontato dal personaggio funziona come funzionerebbe un libro di viaggio cioè ci porta di fronte a sensazioni e addirittura reperti come questo biglietto appunto vedete il museo strappato che è il biglietto del battello che prende il personaggio sul lago di costanza perché io manifesto il biglietto perché questo biglietto esiste e ovviamente l'ha preso l'autore è rimasto strappato come è stato strappato quando sono salito su quel battello ma come in un libro di viaggio ho cercato di simulare un'esperienza reale attribuendola a un personaggio no e anche questo naturalmente entra in una specie di rovello continuo su che cosa può essere un romanzo tanto più ma questo posso solo accennarlo e concludo che si chiama romanzo senza umani quindi è una contraddizione in termini perché è impossibile impensabile un romanzo senza l'umano anche quando l'umano fosse cancellato e spunto non lo so proprio negato perché c'è uno sguardo umano che comunque agisce integralmente umano quando io il libro lo comincio dicendo in assenza di occhi umani ma è chiaro che è impensabile no è una contraddizione pure quella come fa a essere in assenza di occhi umani se c'è un occhio che guarda e lì anche questo timbro che ho chiesto a feltrinelli di mettere sul frontespizio che dice questo romanzo non è prodotto da un'intelligenza artificiale sta a che fare se vuoi con l'idea che io posso immaginarmelo un romanzo prodotto da un'intelligenza artificiale e non discuto che possa essere anche molto più bello ma non è sporcato macchiato da quella verità umana in termini di gastrite di ansia di imprecisione di inadeguatezza che cerchiamo secondo me in un certo tipo di romanzo una specie di vibrazione di una verità specifica singolare di quell'essere umano che nel romanzo si è praticamente camuffato c'è una frase che io trovo commovente in in martin amis in questo libro che dice ve la voglio leggere bene perché è proprio brevissima e dice uno tanto può nascondersi da tante parti no ma i veri romanzi sono più delicati perfino delle raccolte di poesie perché mettono in luce chi sei veramente questa idea che non è detto che sia autobiografico romanzo ma ti rivela mi piace molto perché ho sentito in quel tipo di romanzo di cui sto parlando fosse o saramago che si rivelava un'identità che quell'identità non era manifesta era segretamente però segretamente infiltrata dentro ogni 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 pagina ogni riga del romanzo e quindi in qualche in esso diciamo nel romanzo stesso si rivelava via via grazie c'è un'ultimissima domanda c'è qualcuno che chiede da lontano oppure no a me vengono in mente alcuni medium io ho una grande passione per videogiochi adesso c'è baldur skate 3 che vincerà il gioco il premio gioco dell'anno nella serialità mi viene in mente dark di obar o anche il cinema supereroistico per carità che con le sue ellissi insomma non è proprio la cosa più seguibile non è il cinema delle origini ecco mi pare di vedere come in realtà la complessità la non linearità esiste in tantissime cose mentre il cinema il videogioco la musica se ne siano fatti carico il nostro lettore il nostro il pubblico della letteratura mondiale in un certo qual modo sia rispetto al romanzo non lineare finito in questo inverno eterno in questo ghiaccio per l'appunto ecco per appunto lo scrittore lo storico lo storico guarda al passato lo scrittore diceva philip dick è il profeta di un futuro che ancora non esiste quando avverrà il disgelo e soprattutto perché il nostro lettore non accetta la complessità nel libro però poi contemporaneamente si va a guardare i centomila film di supereroi che hanno centinaia di migliaia di personaggi e migliaia di ore un sacco di ellissi è giusta come osservazione non posso che raccoglierla senza nemmeno troppo risponderti cioè mi sembra che hai constatato proprio un punto che non è vero che il letto neanche il lettore chiamiamolo adesso per capirci il fruitore degli oggetti degli oggetti culturali in senso lato non è vero che rifiuta sempre la complessità ci sono nella serialità televisiva nella proposta del videogioco ma in certe anche proposte museali in certi esperimenti diciamo che ci porta anche il teatro contemporaneo a fare il cinema a dei livelli sofisticati non è che tu rifiuti sempre quella complessità anzi qualche volta la cerchi la cerchi perché se voi pensate a organismi narrativi cinematografici che hanno avuto un successo epocale e tenet di nolan per dirtene uno dove io mi sono perso per dire come spesso mi accade con i film di nolan ma o interstellar che forse era più trasparente se vuoi per certi versi ma sempre qualcosa di insondabile proponeva e la propone pure su una durata lunga quindi comunque ti impone no di stare là lui decide il tempo è anche tirannico da un certo punto di vista un certo cinema pensate all'ultimo scorsese che ha procurato parecchi sbadigli e frustrazioni perché è troppo lungo perché ci aveva abituato a un ritmo narrativo che in questo ultimo film che non ho ancora visto però mi dicono essere assolutamente rallentato no allora voglio dire non è che tu rifiuti sempre la complessità a volte te la vai addirittura a cercare avresti in tremila cinefili appassionati di opere che sono spericolatissime da un punto di vista del racconto non lineare o del videogame come dici tu o della performing arts cioè delle performing arts insomma una serie di cose nella letteratura ho l'impressione invece ma misteriosamente forse no che è così a un poco respinta perché probabilmente però e dico una cosa ovvia e quasi mi vergogno di doverla dire è la letteratura costringe a un rapporto con la lingua e dunque il punto è che dove la complessità l'accetti su un piano narrativo strutturale ma supportata dalle immagini nella letteratura ad un certo tipo fai un doppio sforzo che è uno sforzo di natura di produzione di immagini perché c'è sempre una componente deduttiva anche nel romanzo più facile questo bisogna dire quasi contraddicendo emis no io romanzo me lo devo immaginare se no non funziona io le vedo le cose che romanzo che sia il romanziere più semplice che sia romanziere più sofisticato mi impone di vedere il personaggio di guarda infatti questa dico un'altra ovvietà quando uno va al cinema a vedere una trasposizione cinematografica spesso non dico che ne resta deluso è un po disorientato no magari un bellissimo film ma non è il romanzo che ci avevi in testa tu non è il film che ti rifatto tu del romanzo mentre lo leggevi quindi questo è un primo livello il secondo livello quando è questo tipo di scrittura di cui io sto parlando pone un'opacità linguistica davanti al lettore cioè uno sforzo conoscitivo che passa molto banalmente per il rapporto tra lessico e sintassi dove tu quella non linearità la produci anche con un effetto stilistico giocato su una complessità per l'appunto sintattica o lessicale quella un po ti respinge o la respingi cioè questa impressione qua e d'altra parte finisco davvero ti do un dato che mi ha impressionato che viene fuori da un piccolo libro di uno studioso di biblioteconomia di meccanismi di editoria che si chiama Giovanni Solimine che parla tra l'altro dell'avanzata incredibile del podcasting ma anche dell'audiolibro quindi anche questo sarebbe da pensare lo dico a voi soprattutto perché l'idea stessa che un romanzo possa nascere contemporaneamente come ormai accade come audiolibro e come romanzo di carta e che potrebbe spingerti a preferire l'ascolto cioè la dimensione orale aurale alla lettura e ci fa riformulare dice Solimine l'idea che l'orecchio sia diventato un nuovo occhio che noi leggiamo attraverso l'orecchio guardate che interessantissimo questo e poi magari ti compri il libro di carta ma non l'hai letto realmente te lo sei ascoltato interessantissimo e non non facile anche da decrittare forse rimanda alle radici dell'umano cioè a una dimensione fondativa della specie come 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 specie che racconta e quindi costruisce comunità giocate sul racconto e sull'ascolto io non lo so però insomma dico che a un certo punto però Solimine ci fornisce un dato dice che dentro questo strumento ogni giorno in termini di parole scritte passa l'equivalente di un romanzo medio ogni giorno è come se noi leggessimo circa mi sembra 40.000 parole se tu ci pensi se ci pensate un attimo lo spazio che il romanzo questo deve deve farsi deve scavarsi dentro uno spazio di testualità così articolata e così esuberante è uno spazio sempre più difficile d'altra parte non lo dico a voi ma lo direi comunque anche andando per strada quando le persone ti dicono perché non leggono non è che le considero colpevoli di questo la risposta però che ti danno è non ho tempo perché non hai tempo perché il tuo tempo è assediato occupato militarmente anche da molte immagini ma pure da molte parole quindi in questo flusso la sera ieri l'ho presentato con l'alitizzetto che sanamente ha candidamente l'ha detto delle cose belle sul libro ma insomma a un certo punto ha detto però certo non è un libro che ti puoi leggere la sera quando arrivi alla fine della giornata questa cosa mi ha fatto sorridere perché ho pensato è vero e però se uno non ce l'ha quello spazio alternativo dove lo trova il tempo del romanzo il posto del romanzo questo è interessante perché secondo me ha a che fare proprio con la modalità dei consumi culturali cioè l'idea che al cinema ci vai un po meno perché la serie televisiva te la guardi anche quando sei stanco ma l'esperienza quella che richiede per l'appunto un grado di attenzione di partecipazione ulteriore che comunque credo sia in ogni caso produttiva a quale tempo e spazio della nostra vita la ascriviamo la riportiamo esiste quello spazio ancora di concentrazione estrema non lo so cioè sei indebolito oggettivamente sei indebolito e sei indebolito per tutti quindi uno scrittore deve fare i conti pure con questo cioè con una platea potenziale che fa fatica anche dove fosse bene intenzionata a ricavare lo spazio di attenzione che richiede per esempio un libro non lineare ma io tutto questo lo dico proprio non è che come dire difendo una opzione a sfavore di altri solo per dire attenzione è interessante chiedersi ecco che cosa vogliamo che produca quel gesto che facciamo e se non ce lo chiediamo secondo me se invece arriviamo alla soluzione più ovvia e più disarmata cioè vogliamo semplicemente raccontare una buona storia a me non è che questo disturba però che sia cosciente in qualche modo che sia portato alla coscienza dicevo anche a qualcuno tra voi quello il punto che uno scrittore può essere inconsapevole fino a un certo punto secondo me anche lo scrittore che sceglie la via della estrema leggibilità lo faccia con consapevolezza non come qualcosa che gli è accaduto senza che se ne accorto diffido un po di questa inconsapevolezza spesso anche esibita come un valore indiscutibile no tu chiedi a uno scrittore ma perché fatto questa cosa come se avrebbe potuto fare mille altre cose invece io sono molto affascinato da quegli artisti in generale che hanno anche un'estrema consapevolezza pur sapendo che il talento le occasioni producono pure l'imponderabile però una volta che tu l'hai assistito a questo spettacolo dell'imponderabile poi riesci a fare un esercizio come diceva tabucchi di poetiche a posteriori dice le poetiche sbagliate sono quelle a priori tu decidi che il libro deve rappresentare questo ma una volta che tu l'hai scritto il libro puoi desumere appunto dedurre tu come lettore del tuo stesso libro quale poetica hai provato a formulare o a guardare o a osservare facendo quel gesto insomma quindi è tutta una questione secondo me appunto di consapevolezza bifronte diciamo sia del lettore che hai davanti del lettore potenziale che hai davanti sia di te come scrittore e che cosa vuoi rappresentare ma guardate che nel campo musicale la stessa cosa cioè stabilire che tipo di proposta sto facendo nel mondo in cui dominante giocavamo a lezione prima dicevamo taylor swift e non è che è un disvalore anzi ma dico se vuoi essere alternativo a taylor swift cioè incunearti nello spazio che lascia libero lei o chi come lei è dominante è perché si riconosce l'alternatività della tua proposta la canzone indie in qualche modo anche se adesso è diventata in parte anche mainstream no nasce come un'antitesi rispetto a un pop dominante no poi diventa pop essa stessa quando assume un certo tipo di riconoscibilità ma ci sarà sempre uno che stasera si esibisce in un posto stasera a torino magari e dovunque con quattro persone davanti quattro gatti davanti ma sai esattamente che cosa sta facendo e probabilmente magari un giorno diventa bob dylan però è capito da dove è partato è partito bob dylan ho trovato sempre bellissimo quel film dei fratelli coin che si chiama a proposito di davis in italiano inside davis lewis mi parla una roba del genere bellissimo in cui c'è questo cantante un po sfigato con un gatto che non riesce a cavare un ragno dal buco come si dice e il film finisce non è che vi dico come va a finire completamente c'è una scena quasi finale in cui entra in un locale e tu capisci che si sta esibendo il giovane bob dylan no e lui diventa quasi il soccombente bernardiano c'è uno che dice di fronte a un talento così esuberante ma quel talento non sarebbe diventato così decisivo nella storia della musica senza un esercizio della consapevolezza intorno a quel talento cioè tu che cosa stai producendo che cosa stai proponendo via via che lo proponi a me questo mi sembra un punto che è rilevante soprattutto in una scuola come questa va bene non voglio togliervi il tempo della scena a proposito dei tempi quindi grazie per essere stati qua grazie grazie grazie